Si smarrisce contro il Gubbio l'Ancona delle ultime quattro giornate. I Dorici rimediano una sconfitta senza pelli che mette fine ad una striscia utile con le vittorie contro Modena e Albino Leffe e Pareggia Sant'Arcangelo e Fano. La squadra di Brini è ritornata quella smarrita nell'animo di avvio campionato ed evanescente sotto il piano del gioco, come se i problemi risolti avessero azzerato le motivazioni bianco-rosse. La formazione di Maggi fa il bello e il cattivo tempo grazie ad un Ferretti da categoria superiore. Gli ospiti iniziano subito forte facendo capire che il pallino sarà tutto suo. Al quarto calcia in porta ma la palla finisce alta sopra la traversa. Tre minuti dopo è ancora lui pericoloso, stavolta la traversa salva Scufia. Al tredicesimo il primo squillo dell'Ancona che accetta il piano partito avversario e prova a ripartire, sinistro di momento e alto. Al sedicesimo più o meno lo stesso film, al tiro però si presenta Bariti diagonale largo. Un giro di lancetta e gli Umbri possono sbloccare. Malissimo ma l'erba da ultimo uomo ne approfitta Zanchi che si invola verso Scufia ma apre il piattone e spreca tutto. Il vantaggio del Gubbio però si materializza al ventunesimo, destro potente di Valagussa che rimbalza davanti a Scufia, tutt'altro che reattivo. Palla in rete e la partita si sblocca. La risposta dorica è tutta in un colpo di testa di momentè che Narciso devia in angolo. Poi ancora Ferretti, sempre lui, a seminare il panico nella difesa bianco-rossa al trentacinquesimo. Il parziale più che giusto alla fine del primo tempo. Lo sa anche Brini che dopo la pausa dà peso al suo attacco con l'ingresso di Samb per un evanescente Bariti. I risultati non tardano ma De Silvestro ha ancora un conto aperto con la sfortuna. Palo pieno dopo le due traverse di sabato scorso a Fano. Gol sbagliato, gol subito e il calcio. L'applicazione è Ferretti. Addomestica il maldestro assist di Scufia e lo batte con estrema facilità. Ospiti sul velluto. Ferretti è stato di grazia. Calcia pure al volo. Conclusione d'applausi che si stampa sul palo. Non è ancora finita. Scufia è graziato ancora dal palo al ventiduesimo su conclusione stavolta di Candellone. Riecco l'undici di Brini. Momentè devia sottoporta ma Narciso si rifugia con i piedi in angolo tra le proteste per un possibile falo da rigore che l'arbitro non vede. Nel finale il tentativo di riaprire il match con due occasioni in pieno recupero ma il risultato non cambia e condanna l'Ancona.